Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo episodio di Minecraftita Allora, in questo episodio andiamo a fare qualcosa che, diciamo, spazia un po' da quella che è l'isola dei villagers ma rimane un po' in tema villaggi, NPC e tutto Come anticipato, non nello scorso episodio ma già tipo un mesetto fa una volta creato un meccanismo funzionante di riproduzione villagers la cosa delle porte, ho letto anche molti vostri commenti, alcuni anche abbiamo tipo 100 e passa pollici in su però sono alcune cose che nella wiki, non lo so, io mi fido della wiki principalmente comunque ancora devo capire come cazzo funziona, in breve però avendo un sistema funzionante di riproduzione villagers possiamo procedere alla creazione della... dell'obiettivo finale dei villagers cioè, oltre a creare naturalmente il villagers perfetto, creare una farm di ferro oddio c'è il singhiozzo una farm di ferro sto cuocendo ora tanti blocchi, ho tutte le fornaci attive sono otto fornaci, sono otto stack di stone bricks che andremo ad utilizzare probabilmente ne utilizzeremo anche qualcun altro per un design così ehm... allora la scorsa stagione ho utilizzato e non mi ricordo... non mi pare di averlo adattato mi pare proprio di averlo seguito dal tutorial di DocM77 di cui tra l'altro ora sono nello stesso network piccola nota perchè... cosi... gg ehm... questa volta voglio utilizzare in questa serie una riadattazione del... del... del design di DocM e di GIL2579 per si chiammi chiusi l'account ehm... che è più compatta a dire il vero anche quella della scorsa stagione avevo potuto farla più compatta per quanto riguarda l'altezza però non per quanto riguarda il design globale del... del coso delle quattro celle questo invece è abbastanza compatto è una specie di cubetto direi che non supererà l'altezza del faro di sicuro e quindi direi di metterlo tipo qui ehm... ho fatto le ricerche del caso e... una distanza di 100 blocchi è tipo il minimo richiesto per il funzionamento della farm di... 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 di Iron Golem ho fatto... le misure nel senso ho contato i blocchi e siamo a più di uno... tipo... cos'è? tipo 2 stack di blocchi che sono circa 128 blocchi da tipo lì proprio... lì in quel punto oltre... oltre il pozzo tipo... da questa linea qui oltre il pozzo quindi se noi lo facciamo tipo qui su questa collina dovremmo essere estremamente sicuri del suo funzionamento dico dovrebbe perché alla fine non è mai come cazzo dovrebbe essere però... o... in qualche modo poi... qua dietro non è un'opzione perché sennò dopo è troppo lontana e il ponte perde un po' di significato perché il ponte deve collegare a qualcosa ehm... deve portare non collegare uh... mi ha detto ok quindi... ehm... penso che da parte mia ci sarà ora un... un po' di... deforestazione amazzonica più o meno per creare lo spazio non ci vorrà tante... deforestazione per i più ambientalisti ehm... di voi basteranno... un paio di alberi questo albero quasi sicuramente si però ciao alberello e... dovrei essere pressoché a posto perché non voglio davvero farlo sulla montagna montagnosa sulla collina collinosa sorry sorry si, voglio farlo sulla collina ehm... non lo so mi son tipo immaginato che ci faccio anche un'entrata roba varie ehm... si, ora aspetto per gli stone bricks che finiscano di ehm... di cuocere e... e poi iniziamo mhm... su queste cose ho già fatto esperimenti in passato con... con i vari episodi ho abbastanza eh... esperienza se così si può dire per quanto riguarda l'explay di minecraft se me lo concedete e... quindi questo tutorial lo faremo a modi tutorial ecco mostrerò passaggio per passaggio cosa bisogna fare e come bisogna comportarsi la prima cosa da fare è... ehm... quella di identificare uno spazio di partenza è una cosa che uno dovrebbe fare per ogni costruzione che inza su minecraft delineare dei limiti eh... e se non dei limiti almeno un punto di partenza e... un modello magari a cui attenersi il punto di partenza per noi sarà uno spazio due per due uno spazio due per due che avremmo più o meno qui ora il buco non è per niente necessario lo metto giusto solo per identificare il punto di partenza immaginate che io prendo il ponte qua ci saranno altre strutture magari di... di... di immagani... di immagani... immagazzi... immagazzinamento non so parlare sono dislessico scusate immagazzinamento del coso non lo so così molto... la sto molto ipotizzando comunque immaginate qui uno qualche tipo di entrata io entro e c'ho tutti i golem che muoiono malamente che bello ok da qui si sale ma questa parte la facciamo con i blocchi di costruzione e devo andare anche a prendere le porte tante porte in effetti sono tante porte wait a moment è venuto bl0 addirittura sono appena reso conto che sto ponte non è per niente illuminato quando dico per niente intendo per niente non è buono però è una fortuna che io abbia dei blocchi che sembrano predisposti al posizionamento di torce non so magari l'ho fatto inconsciamente che figata l'incon... ok ho abbastanza stone bricks per almeno iniziare ehm anche se ora che ci penso un po' di cobblestone per usare come blocco da non lo so di impalcatura un bel genere hm ah no tranquilli non sto a finire la cobblestone la maggior parte l'ho di qua cazzo ho finito con la cobblestone ehm ok allora dicevo ehm scavata la zona 2x2 abbiamo praticamente il cuore della struttura già in pugno perchè quella struttura 2x2 sarà la base in cui alla fine i golem andranno a cadere a morire e a darci tutto il ferro che vorremmo mai ora prendiamo uno di questi angoli a caso io prenderò questo giusto perchè mi piace e andiamo su di ehm un tot di blocchi io cercherò di farlo il più ehm piccolino possibile quindi farò ehm lo so sette otto blocchi facciamo uno due tre quattro cinque sei sette blocchi vogliamo che in questa zona ci siano ehm i golem che muoiono con degli hopper che vanno poi alla cesta giusto questo è ciò che vogliamo quindi dovrebbe bastare in realtà si dovrebbe bastare ehm quindi mettiamo quest'ultimo blocco e mettiamo uno stone brick ehm ora creiamo una piattaforma di quattro per quattro con la zona sempre cava dentro dei due per due ci sono un due tre non sto pensando la c'è la cesta con gli hopper abbiamo due blocchi la lava qui tipo si dovrebbe bastare forse non so se mi conviene farne uno in più per sicurezza ma no ma in bassi al massimo abbasso la collina tanto non ci sono tanto non ci sono troppi blocchi questo pillar non è più necessario ehm però un suggerimento se me lo concedete è una cosa che andrò a fare anche io in questo momento ehm è sempre comodo avere un pillar per raggiungere la zona di lavoro in questo caso questo sarà temporaneo però è ancora più utile avere delle scale perché credetemi le scale sono molto utili soprattutto se giocate come me in vanilla perché se siete tipo ehm in un server creativo o roba del genere ehm ehm era un po' più facile insomma ora dobbiamo costruire una piattaforma ehm la piattaforma ideale è tipo 10x10 ehm perché 10x10? perché in questo modo riusciamo a mettere un tot di porte ehm ideali per consentirsi di raggiungere un numero di villagers ancora ideale per spawnare abbastanza 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 golem non mi veniva quindi 10x10 ehm questa è quattro quindi dobbiamo aggiungere altri sei facciamo 3 di qua e 3 di là 1 2 3 1 2 3 e così anche per di qua quindi 1 2 3 1 2 3 così anche da quest'altra parte e ora lo finisco off camera ok fatto ciò mhm proseguiamo con il prossimo passo che consiste nel andare a ehm creare delle mura ehm in cui poi andremo a piazzare le le porte quindi questa sarà la zona di spawning dei dei golem e ora andiamo a creare invece ehm la zona di ehm come dire dove metteremo le le porte e poi anche la zona di contenimento dei villagers quindi facciamo questa cosa per comodità mettetevi già da subito dei blocchi ai lati così dopo non andiamo a disturbare il design e ehm salite di 3 quindi 1 2 3 così è molto facile fare questo tipo di lavoro arrivati al lato semplicemente utilizzate un po' di cobblestone come ausilio per evitare poi di dover tornare sui vostri passi ed eliminare dei blocchi che non erano utili quindi anche questo lo finisco off camera così evitiamo parti pallose ok ora con vari viaggi vi consiglio di vi consiglio di provendere prima tutte le porte che vi servono magari andare subito nella zona in cui poi vi servirà utilizzare tali porte ne serviranno tipo sono 10 40 sono qua 3 6 9 18 mmm non so se mi basteranno eh quelle che ho di la mi basteranno con le torce e figuriamoci le porte che cazzo sto a fa ok comunque in caso il questo mio tutorial se volete non vi sia chiaro vi lascio in descrizione il design originale del dello youtuber che l'ha fatto nel caso mi dimenticassi di mettere il link il canale è nimstv mi pare un attimo che controllo nimstv dovrebbe essere esatto si ehm quindi andate a cercarlo su youtube oppure semplicemente cercate golem farm ehm iron golem farm su youtube ehm comunque rispetto alla alla mia scorsa stagione questo è molto più compatto anche per la base di spona non so se vi ricordate ma quello vecchio mio era un po' più più grande mi pare fosse ehm un 16x16 forse e 6 blocchi in più in ogni direzione non sono pochi quindi questo è un bel cambiamento perchè è molto più compatto e la cosa bella è che questo necessita anche di una singola cella di ehm di contenimento anche se suona malissimo contenimento ehm però almeno vedendo l'idea ho finito il cibo che è una cosa molto molto negativa ehm per andare a prendere le ultime porte così almeno poi andiamo avanti con il tutorial ok recuperato del cibo andiamo a posizionare le ehm le porte no cazzo faccio c'ho già del cibo ok ehm abbiamo messo tutto qua sopra quindi bisogna posizionarle verso l'interno cioè cosi esattamente 3 mi sembra un numero ideale qua per fare la cosa con abbastanza sveltezza rapidità insomma una volta abbastata la porta finchè non esce completamente dal blocco è trasparente la porta la porta quindi io ci posso passare dentro in molti modi sfruttate questa cosa per non dover scendere e ritallire continuamente tutte le porte non funziona lo shift qua ok queste vengono contate come case ancora non capisco il perché non capisco il nesso detto questo fatto però si vede che non ci hai dato sapere vero? eh mi sa che è più o meno così perchè qua cazzo poi eccessivo allora ok ultime porte eccole qui puff 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 poi possiamo eliminare cobblestone perchè non ci serve ehm battiamo anche questi ok nice sono 40 porte si 3 6 9 10 10 20 30 40 esatto ok ora l'efficienza di questa eh struttura sta nel doppio ehm nel doppio spazio di di spawning un po' come nella nostra vecchia stagione quello dobbiamo fare è prendere i nostri stone bricks e iniziare a piazzare blocchi in questo modo cioè tutto intorno al secondo blocco delle porte tenete punto shift per non aprire ogni volta le porte e questo renderà le cose molto più efficienti quindi ancora una volta un quadrato 10x10 dovrebbe essere relativamente semplice tutto fino a questo punto ehm poi naturalmente per i villagers basterà impostare una piccola rotaia ehm bisognerà fare un casino boia comunque perché ci sono comunque più di 100 blocchi quindi bisogna andare a prendere le rotaie insomma è comunque un casino mi sa anzi che lo faremo nel prossimo episodio perché oggi si è fatto tardino però insomma l'importante è avere iniziato questo progetto e ehm lasciamo sono tre insomma lasciamo il buchetto centrale di due perché sempre qui bisognerà poi andare a a far cadere i poveri i poveri villagers che saranno tipo alla nostra merce 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 ehm insomma li mazzeremo malamente ok? ahah bene mi piace ho altri sei ho altre sei scale giusto per te un due tre quattro cinque guarda l'elpicità ok per quanto riguarda l'ultimo piano ehm e la conclusione della parte diciamo costruttiva tutto ciò ehm basterà utilizzare la funzione shift più click per mettere un contorno a tutto ciò ora per mettere il contorno qui voi potete metterlo come desiderate ehm potete metterlo di alto due così tipo o fare come ha fatto eh lo youtuber hm che ha fatto questo tutorial di mettere del vetro ehm il vetro non penso abbia nessun risvolto tecnico della serie se non c'è il vetro non funziona un cazzo ehm penso sia per lo più estetico per mostrare che finisce lì la struttura ehm probabilmente nei prossimi episodi ehm sostituirò il vetro con dei log di ehm legno per ora invece terrò il legno il... scusate il vetro perchè voglio almeno vedere come come sta al massimo lo colorerò il vetro non il legno ok ehm ora qui ehm basta semplicemente mettere dell'acqua perchè essendo 10x10 mettendo l'acqua agli angoli ehm si va a completare tutto ehm diciamo tutto completabile per così dire abbiamo anche dell'acqua qua vicino quindi è relativamente semplice andare piano piano a riempirlo ehm dove avere altri secchi vuoti a casa però hm non penso valga la pena più o meno il tempo che utilizziamo è quello e praticamente questa è una versione mini di cui l'abbiamo fatto nella scusa stagione hm lo ripeto perchè alla fine è praticamente la stessa cosa in picciolita la cosa maggiore è che al posto di avere quattro cellule ehm di contenimento quattro celle non cellule ehm quattro celle di contenimento per il villaggio ne basterà una probabilmente la metteremo o frontale o posteriore ehm ai lati hm non so magari anche tipo lì qua non di sicuro e nemmeno qua o qui o lì perchè voglio che sia comunque visibile e lo faremo tipo un balcone di di un palazzo antico non lo so per insomma nel prossimo episodio se non l'avete ancora capito personalizzeremo questa struttura ehm la renderemo simile al nostro al design che abbiamo utilizzato noi in questo mondo comunque per questo episodio è tutto ehm vi aspetto nel prossimo vi saluto vi saluto piazzo giusto l'ultimo bicchierozzo d'acqua qua l'ultimo secchiello d'acqua come vedete giusto per far vedere che l'acqua è completamente fapposa quindi per questo episodio è davvero tutto vi saluto e aspettate il prossimo episodio seconda volta che lo dico ma comunque ciao turuturututti e i i i i i i i Grazie.